Un ragazzo quando finisce la scuola superiore generalmente dice voglio trovare lavoro, voglio inserirmi nel mondo del lavoro. Volevo provare direttamente un passaggio più diretto nel mondo del lavoro, vedere come poteva essere l'impatto. Consiglierai questo corso perché è un corso che dura molto meno rispetto all'università e perché ti inserisce subito nel mondo del lavoro. Ecco che questi percorsi sono una validissima alternativa. Sono finanziati dalla comunità europea e dal MIUR per cui si richiede soltanto una piccola quota di iscrizione. Alla fine del percorso biennale viene rilasciato una certificazione di quinto livello europeo, un attestato di alta specializzazione. E essendo un corso nel campo del management alberghiero io credo che sia spendibilissimo proprio ovunque. Ho scelto di frequentare questo corso per riqualificarmi e per avere un'opportunità in più per il mondo del lavoro. Proprio per il fatto che sono anche fatti in stretta liaison con il mondo delle aziende. Hanno ben due periodi di stage di 300 ore ciascuno. Servono a capire innanzitutto se è il lavoro per loro perché è un lavoro ricco di sacrifici ma ricco anche di tante tante soddisfazioni personali. E poi perché è utile misurarsi con il percorso formativo che si è fatto fino a questo momento. Credo che sia molto utile sia dal punto di vista dello studente che dal punto di vista dell'azienda che ospita gli stage di stagisti. Qualcuno che arriva dall'esterno molto fresco, molto giovane, innanzitutto pieno di entusiasmo, riesce a darci nuovi punti di vista rispetto a quello che stiamo facendo e quindi a farci scoprire nuovi aspetti, nuovi significati di quello che facciamo. Spesso, e noi siamo stati molto fortunati, questi ragazzi hanno proprio delle buone energie che possono trasmettere come innovazione, anche se parziale, in un'azienda come la nostra che ha sempre bisogno di rinnovarsi. In questi ragazzi si nota una grande timidezza all'inizio, però poi con l'andare del tempo si accende loro il grande fuoco della passione per questo lavoro, se è il loro lavoro. E quindi un grande entusiasmo di imparare, di capire, di apprendere. Mi hanno messo molto alla prova, sì. Ovviamente uno stage fatto bene può anche favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, più facilmente, proprio perché si capisce di già la personalità, la completezza professionale del soggetto e quanto materiale c'è da poter far crescere. Sono molto soddisfatta perché pensavo di non sapere tante cose, invece con questo corso le ho potute imparare. Sono contenta di questo corso e lo consiglio a tutti coloro che cercano un'alternativa tra il mondo del lavoro e l'università e vogliono mettersi alla prova. Una formazione che va assolutamente incentivata in tutti i campi. Un altro ragazzo come me, con questa formazione, potrebbe incanalarsi nel modo migliore per lui nel mondo del lavoro. Questo corso si va a posizionare nel suo primo periodo di stage, proprio all'inizio dell'expo. Sarà un momento in cui ci si metterà veramente alla prova. Assolutamente sì, perché non si sa mai l'opportunità che ti può bussare alla porta.